Cosa è successo? Qualcuno mi deve spiegare cosa è successo. San Marino al novantatreesimo su calcio di rigore pareggia con Gibilterra e adesso lunedì ha la possibilità di vincere il girone della Nations League. Allora, partiamo dal presupposto che ieri... Ho già intenzione di fare questo post partita perché San Marino è regata ma c'è qualcuno che non ti fa San Marino, dai! Allora, partiamo dal presupposto che ieri la partita l'ho vista. È stata una partita bella, molto meglio del previsto, quello che mi aspettavo sincero, molto meglio del previsto. San Marino rega il portiere di Gibilterra, ha fatto due o tre parate che facevano paura. Va bene. Gol di Gibilterra all'undicesimo minuto sul calcio di rigore che è rivedibile diciamo, però lì non so se c'era il VAR. Partaggio di Gibilterra. San Marino il primo tempo l'ha giocato abbastanza bene, ha fatto qualche conclusione, ma ha fatto rega come ho detto prima di portiere di Gibilterra che facevano paura. Ma la cosa clamorosa è che nel secondo tempo San Marino l'ha giocato molto, molto bene. Io ho detto se non scegnano in questo secondo tempo è impossibile perché stavano giocando rega veramente, veramente bene, il gol doveva arrivare. Però qualcuno, questo magari sarà un gol, rega San Marino, un gol, sapete quanto cazzo vale? Perché la menina è la nazionale più scarsa al mondo per loro fare un gol, vuol dire festeggiare fino a domani, saranno ancora festeggiando per me. La cosa interessante, al novantatresimo, pallo in area di rigore, calcio di rigore per il San Marino e lo batte un certo Nicola Nanni, che è uno dei migliori talenti san marinesi. Fa ridere però, è un gran talento perché è veramente molto forte lui raga. Lo segna, mi ricordo, c'è tutta la panchiera di San Marino, è nata da grosso, è stato un buonamente, molto bello. Però rega, la cosa che mi fa ancora più, lo colloco anticipato inizio video, se lunedì giocheranno a Vaduz, se non sbaglio, la capitale del Liechtenstein, San Marino dovesse battere il Liechtenstein, che sarebbe già clamoroso, potrebbe, anzi, vincerebbe il girone di Nations League. Non ha senso, sta succedendo tutto così in fretta perché San Marino, mi sa, è il primo anno, è la prima volta in assoluto che fa un punto in Nations League, quindi in una competizione europea, in una competizione ufficiale comunque. Ma la cosa strana è che lo sta per, potrebbe vincere, la possibilità di vincere, se invece dovesse pareggiare con il Liechtenstein, andrebbe ai play-off. E ancora quello lì sarebbe clamoroso perché comunque San Marino non ha mai fatto, come ho detto prima, un punto in una competizione ufficiale come la Nations League. L'ultimo che ha fatto, mi sa, è stato nella qualificazione o agli europei o al mondiale, ha pareggiato con l'Estonia 0-0, quello lì me lo ricordo molto bene, però rega veramente è una nuova clamorosa, cioè è prima il San Marino che vince di nuovo dopo 20 anni con il Liechtenstein, sempre con quella squadra. Adesso di nuovo con il Liechtenstein, lo sto ripetendo mille volte, ha la possibilità non solo di fare la sua terza vittoria nella sua storia in 24 anni, ma la possibilità di qualificarsi per andare avanti in Nations League. è incredibile, è tutto troppo inferta, ho bisogno di calma. Comunque riguardo a Gibraltar, loro qualche giocatore professionistico ce l'hanno, tipo il portiere, c'era il difensore Hannesli, non so come si pronunci, mi ricordo che ce n'era Bartolino, forse Bartolino mi ricordo una roba del genere che gioca invece in ASC inglese, quindi comunque per essere un abitante di Gibilterra, tanta roba, però comunque rega veramente, porco due, è stata una partita al Cardiopalma, è stata una partita al Cardiopalma anche perché San Marino quando ha fatto il gol del pareggio, l'1-1 su rigore, aveva avuto, mi ricordo sempre con Nanni, l'occasione per fare il 2-1 e è andato verso il portiere. Gli ha calciato in faccia, il portiere però non ha trattenuto, respinta, c'era il giocatore del San Marino pronto a tirare in porta, è stato poi deviato dalla difesa, provo con due regali, lì mi si è fermato per un secondo il cuore perché ho detto, fermi, cosa sta succedendo, il San Marino sta diventando una nazionale forte, cioè fa ridere come cosa, immaginatevi solamente San Marino-Italia, siamo capaci di perderci, siamo capaci di perderci, io me lo sento, comunque rega veramente, questo San Marino tanta tanta roba, non si merita secondo me di essere la nazionale più scarsa del mondo perché comunque, batti Lichtenstein, pareggi con il Gibilterra, ma anche l'anno scorso Gnari, mi ricordo che nella qualificazione degli europei, ha fatto un gol col Kazakistan, un gol con la Finlandia e uno con la Danimarca, la Danimarca che è arrivata al quarto posto nell'Euro 2020, comunque la Danimarca che è una nazionale molto più importante, è una nazionale molto più grossa, con giocatori clamorosi comunque rispetto a una nazionale dove quasi tutti non sono professionistici, e questo rega è clamoroso come San Marino sia l'ultimo, non merita di essere l'ultimo secondo me, meno tra le ultime cinque, quello sì, ma di essere l'ultima in assoluto, assolutamente no, è molto più forte rispetto alle altre nazionali che ci sono. E detto questo ragazzi, io questo post partita lo chiudo qua, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, e io rega mi sa che lunedì porto il post partita di Lichtenstein-San Marino pregando che succeda l'impossibile, io rega ho già ansia per San Marino, non sono mai, io sono italiano, però rega dai Vachini come fate a non simpatizzare San Marino, dai vabbè raga, ci sentiamo, forza sempre Italia ovviamente, adesso ci gioca contro la Francia, dove se almeno non prendiamo tre gol dalla Francia, tra l'altro senza Mbappé e senza Camavinga che è stato ammonito nell'ultima partita, quindi non giocherà, se non prendiamo tre gol concluderemo il girone da primi, meglio così, detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un nuovo video, bello!